eccoci qui pierre ho realizzato il zener test io ho scelto la resistenza da 4 e 7 perché più di 100 volte 120 volte non credo che mi occorra io parlo per me personalmente poi insomma volendo si può mettere anche un deviatore qui davanti che sceglie due tipi di resistenze chi vuole 200 e chi vuole 100 o se serve 200 se serve 100 con un deviatore si possa scegliere la tensione voluta insomma si mettono di tutto due tipi di resistenza comunque detto questo ecco qui già ho inserito non zener in esame questo è sconosciuto perché totalmente cancellato non si capisce più bene il valore ecco non si legge più bene il valore tutto collegato i 9 volte esterni eccoli qui e al multimetro ho collegato l'uscita qui della riuscita giustamente per la lettura della della tensione del zener andiamo a premere il p2 con 5 miliampere mi metto perché tanto questi sono da mezzo watt quindi penso sia più che sufficiente premo p2 eccolo qua lo sconosciuto praticamente sarebbe un 56 555 56 e questo va bene proviamo un altro zene un altro paio di zene per vedere come si comporta questa volta ho inserito un zener noto 6,2 adesso è impossibile fartelo leggere perché così non ce la faccio comunque fidati un 0 e 2 un 6 e 2 6,2 volte e vediamo su il test cosa dice premo il pulsante p2 e 6 e 39 va bene ci siamo diciamo più o meno è quello adesso mettiamo un altro zene solo anche questo è noto è un 9,2 inserito su praticamente sui morsettini del test premiamo p2 vediamo su sul test cosa da ecco qua 92 perfetto io direi che funziona perfettamente che altro aggiungere se non la realizzazione come è stato fatto che io ho fatto praticamente la tecnica se così si può chiamare del trapano con i fori conseguenti i mille buchi si trovano tutto intorno e poi con la limetta a svasare piano piano ho fatto l'asola sia sotto che sopra ma è una tecnica conosciutissima penso che l'abbiamo usata un po tutti in elettronica ma anche per altre altre cose va bene detto questo funziona tutto perfettamente ti ringrazio di tutto pier e ci sentiamo alle prossime ciao